Il bullismo è una malattia, è una malattia che si propaga a causa dell'ignoranza, di una visione semplificata della realtà che è complessa. Il bullismo è il frutto avvelenato della fragilità culturale delle persone. Il bullismo omofobico è una specie particolare di bullismo, è l'intolleranza che ha selezionato la sua vittima sacrificale negli omosessuali. Uno dei capri spiatori tipici della storia umana. Dagli al gay, soprattutto nelle stagioni di transizione, nell'epoca di inquietudine, un modo abbastanza facile di dare una valvola di sfogo alle paure più profonde, le paure che riguardano l'identità personale, l'incertezza, l'inquietudine anche sulla propria identità di genere, sono quelle che possono più nevrotizzare un individuo. Il bullismo omofobico è un serial killer che uccide. La principale causa dei suicidi tra gli adolescenti è legata alla paura dello stigma che la cognizione della propria diversità produce. È una strage di ragazzini, di ragazzine, oggetto anche di violenza talvolta dei compagni di scuola. Ecco, il bullismo omofobico va combattuto, va combattuto facendo la guerra più importante che ci possa essere. Sulla rampa di lancio non dobbiamo collocare testate atomiche, dobbiamo collocare la cultura, l'accoglienza dell'altro e degli altri, la demitizzazione, la demistificazione della diversità vista come minaccia, costruire una cultura che consenta di accogliere la diversità come una ricchezza, costruire la convivialità delle differenze. Si può e si deve combattere il bullismo omofobico. La condizione per eliminare è non accettarlo, non considerarlo un fenomeno di folclore. Fare battute cattive contro gli omosessuali può essere propedeutico a una violenza più grande, la violenza della negazione della vita. Ognuno ha diritto di essere ciò che è e di esserlo alla luce del sole. Ognuno ha il diritto di dare all'amore che ha il nome che non può più nascondere. Ognuno ha il diritto di ribellarsi a chi pensa di privare gli altri del diritto di essere ciò che si è. Quella piccola, mediocre, volgare onnipotenza che viene esercitata dai bulli può essere combattuta. Nessuno di noi è Dio sulla terra, nessuno può attribuirsi il potere grande di decidere della vita degli altri. Ognuno ha il diritto di decidere della propria vita. Per questo l'appello è a darci coraggio, a darci forza, ad accogliere soprattutto i più giovani, gli adolescenti che possano vivere con serenità il percorso della propria presa di coscienza, che possano sentirsi protetti. Nessuno è carne da macello, nessuno deve essere selvaggina per le stagioni di caccia degli intolleranti e degli ignoranti.